Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video, con questo video concludiamo la serie delle richieste collegate alla sfida I call you, che quindi per l'ultima volta per il momento vi verrà messa nelle schede. Oggi rispondiamo alla richiesta del mio amico Grizzly che io seguo praticamente da quando ho iniziato a fare YouTube, a cui mando un abbraccio orsacchiottoso, grosso grosso, e di cui ovviamente troverete il canale in descrizione. Mi ha chiesto di parlare di una cosa difficile per me, che sono viaggi nel tempo, tuttavia penso, avendo aspettato un po', di essermi fatta qualche idea. Per chi come me è amante della saga di Harry Potter, il primo esempio che ci viene in mente è un esempio di viaggio nel tempo positivo, poi capirete perché ho fatto questa promessa, che è quello che vede i protagonisti Harry ed Hermione per salvare Sirius, il padrino di Harry Potter, da una morte certa. Ma guardare i video di Grizzly mi ha portato ad una riflessione. se i viaggi nel tempo fossero possibili, sarebbero davvero una cosa positiva, così come presentata dal mondo di Harry Potter. Prima però di addentrarci completamente nella domanda, vorrei segnalarvi un canale, e anzi in particolare un video di questo canale, canale che è stato preavvisato ma non sapeva che io avrei pubblicato oggi. Il canale si chiama Progetto Adelphi, e il video, se non erro, se non mi ricordo male, dovrebbe intitolarsi qualcosa come Edgar Allan Poe e i viaggi nel tempo, gli amanti del genere un po' oscuro, sicuramente conosceranno meglio di me Edgar Allan Poe. Ci sono delle testimonianze di questo scrittore che sembrerebbero potersi ricondurre a dei viaggi nel tempo, ma se siete curiosi, vi consiglio appunto di guardare con attenzione il video che vi lascio in descrizione. Vorrei utilizzare questo spazio per provare brevemente a portare il mio punto di vista, sperando che vi risulti interessante. Qual è il mio pensiero sui viaggi nel tempo? Senza volerlo e riflettendo, si ricollega ad una riflessione che ha fatto Grizzly. Normalmente i viaggi nel tempo verrebbero utilizzati per rimediare a degli errori, no? Però, se in una situazione ipotetica si fossero fermati tutti gli errori che sono stati fatti nella storia, saremmo dove siamo oggi? Posso farvi un esempio che mi riguarda da vicino. Se non si fossero stati i moti di Stonewall, che hanno dato vita al primo gay pride della storia, gli omosessuali si potrebbero permettere di baciarsi in pubblico, sposarsi, fare denuncia per l'omofobia? Io penso assolutamente di no e se volete farò un video magari, non lo so, verso l'estate, parlando di quello che penso del pride, di quello che penso dei gay contrari al pride, perché sono veramente tantissimi, tanti, un numero vergognoso. E a proposito di video che vorrei fare, vi ripropongo, se vi può interessare, un'altra di vacazione, scusate, la mia esperienza da bambino che ho dotato. quindi, in buona sostanza, quello che sto cercando di dirvi è che secondo me è un bene che più o meno, salvo testimonianze più o meno chiare, non esistono i viaggi nel tempo, perché la storia ha fatto tanti errori, alcuni di questi sicuramente potevano essere evitati, mentre altri hanno portato ai cambiamenti che abbiamo oggi. Ma, in conclusione, voi cosa ne pensate? Vi voglio attivissimi qui sotto, non voglio commenti del tipo bellissimo video like. Ecco, i viaggi nel tempo, secondo voi esistono? Cosa ne pensate soprattutto dopo aver guardato il video su Edgar Allan Poe? Se esistessero, sarebbero una cosa positiva? Voi fareste un viaggio nel tempo dove vorreste andare? Scatenatevi qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che se non mi conoscete sono Riccardo, non true e non colors, come qualcuno mi chiama nei commenti. Questo è il mio canale, se vi è piaciuto iscrivetevi, fate richieste qui sotto. Attivate la campanellina per non perdere nessun video e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!